Fa davvero tanta rabbia, tanto dolore dover constatare che un gruppo di vandali abbia in due notti, probabilmente una o due notti, danneggiato gravemente alcuni beni pubblici, proprio di queste opere da pochissimo tempo rifatti. Retti di velte, sedie spaccate, muretti danneggiati ed addirittura lampioni presi a sassate. Insomma, una vera e propria rai da vandalico, quello che si è consumato nelle notti scorse a Santa Barbara, nel comune di Cavriglia. Anche se fosse soltanto uno, comunque simbolicamente il fatto rimane grave. A colpire nella centralissima piazza Primo Maggio una baby gang. Pensate a questi campi di erba sintetica alle nostre spalle, sono dedicate a un ragazzo, Gabriele Duva, che purtroppo se ne è andato prematuramente a 16 anni, pochissimi anni fa, combattendo contro un male incurabile. Crediamo che sia stato anche davvero una mancanza di rispetto nei suoi confronti e nei confronti della sua famiglia che tanto ha lottato. Adesso l'amministrazione comunale si attiverà per far ripagare ai responsabili i gravissimi danni. Sono stati individuati grazie anche alle indagini immediate dei carabinieri e attualmente come amministrazione comunale pretenderemo il risarcimento del danno, anche perché questi sono beni pubblici di tutta la comunità effettuati con i soldi dei cittadini e quindi anche probabilmente delle famiglie di questi vandali.